a tutti ragazzi io sono zanzo e oggi sono qua a roma credibile ancora per motivi di lavoro e questo vlog è velocissimo e volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato appunto per fare la loro grafica del canale e chiedo solo un po di pazienza visto che sono molto occupato con il lavoro a tutti appunto quelli che mi hanno fatto la richiesta e oltre a ringraziare chi mi ha fatto la richiesta volevo dire che praticamente fermo stoppo per il momento le richieste di grafica appunto su questo canale perché veramente dopo che ho fatto la grafica per il canale di Power mi sono state veramente tante 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 richieste è una cosa che mi fa mi fa piacere però se continuano ad arrivarmi così tante richieste come mi sono arrivati in questi giorni non ci starei dietro a farle a tutti e quindi mi sarebbe ci sarebbe brutto comunque farne a pochi alcuni escluderli quindi per il momento farò solo quelle che mi sono arrivate che sono in circa una cinquantina quindi sarò occupato per dei mesi almeno un paio tutti e niente non volevo dire solo questo sto registrando col microfono dell'iPhone perché sono partner di Apple e Apple mi da 1500 euro per questo video non è vero e niente vi ringrazio vi saluto in un vlog di due minuti giusto per tenere in attivo il canale sabato comprerò il computer nuovo inizieranno anche i video su Call of Duty e su GTA Call of Duty magari solo partite un po' particolari invece GTA proprio una serie tutta nuova che ci metterò un po' diciamo per montare i vari video di vari episodi quindi vi saluto ci vediamo alla prossima bella